Cos'è l'MBS? Ecco, bella domanda, difficile dare una risposta veramente esaustiva. L'MBS è un'esperienza da provare, però partiamo dalla definizione un po' più istituzionale, è una scuola per imprenditori. I imprenditori e manager vengono in MBS ogni mese per apprendere nuove nozioni su come espandere la propria azienda e per mettere in atto e sviluppare dei progetti aziendali. È un luogo nel quale le migliori energie del Paese si riuniscono per condividere le proprie azioni vincenti. Come hanno realizzato i loro progetti? Come hanno superato delle difficoltà? Noi non facciamo parlare docenti accademici, universitari, qualche volta può capitare. Soprattutto noi chiediamo agli imprenditori di parlare agli altri imprenditori. È una scuola per imprenditori fatta da imprenditori. Grazie. 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 Grazie.